Va ora in onda Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza Rinvio al 18 novembre per cambio del giudice della prima udienza del processo sugli effetti della mega discarica di rifiuti tossici a bussi sul Tirino Il procedimento aperto a Pescara poi trasferito a quello bis rispetto a quello che si sta svolgendo invece a Chieti vede imputati i vertici di Ato e Aca e Asl di Pescara per distribuzione di acqua contaminata Secondo l'Istituto Superiore di Sanità l'acqua è stata distribuita a circa 700.000 persone all'esterno del Tribunale Volantinaggio del Forum Abruzzese dell'Acqua e Striscioni Il futuro della cartiera Burgo di Avezzano è stato al centro di un incontro tra il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega allo sviluppo economico Giovanni Lolli e i rappresentanti di CGL, CISL e UIL I sindacati hanno chiesto alla Regione di promuovere un incontro urgente per conoscere direttamente dall'azienda il quadro in cui intende muoversi Abbiamo gettato le basi per un confronto costruttivo, ha commentato Lolli che porti a raccrescere la sostenibilità della produzione del sito di Avezzano e a mantenere costanti i livelli occupazionali Il vicepresidente ha assicurato che la Regione sarà parte attiva e chiederà a breve un incontro con i vertici aziendali Per la Presidente della Commissione Antimafia parlamentare Rosi Bindi la presenza dei clan mafiosi in Abruzzo è un'eredità del terremoto dell'aprile 2009 perché è onesto dirlo, prima la mafia qui non c'era La ricostruzione significa soldi, ha detto la Bindi e i clan si sono gettati sull'occasione La Presidente Bindi con sei parlamentari e all'Aquila per un punto sulle indagini post terremoto Abbiamo constatato carenza di leggi So che il Governo sta già lavorando Rispetto per tutte le vittime della strada ed accertamento rigoroso della verità da parte delle autorità Ma occorre evitare di criminalizzare una categoria come i camionisti che dal lavoro sulla strada trae la propria ragione di vita e che cifre alla mano nella casistica degli incidenti ha spesso responsabilità inferiori ad altre categorie di utenti della strada Lo afferma il vicepresidente regionale della FITA CNA Gianluca Carota La CNA ricorda che secondo l'Istat nel 2012 i mezzi pesanti sono stati coinvolti in 2.579 sinistri su un totale di 46.609 e in 8.335 incidenti tra veicoli su un totale di 137.117 La Procura di Pescara sta inviando in queste ore gli avvisi di conclusione indagine per 25 indagati tra assessori e consiglieri regionali della passata legislatura nella rimborsopoli abruzzese L'ipotesi dell'accusa parla di rimborsi gonfiati per missioni istituzionali in Italia e all'estero Si tratta della prima tranche d'inchiesta sull'uso dei soldi del Consiglio regionale che nello scorso gennaio portò all'iscrizione sul registro degli indagati di alcuni esponenti dell'allora giunta di centrodestra più altri consiglieri regionali, presidenti di giunta e consiglio compresi Le ipotesi di reato, truffo aggravata, peculato e falso ideologico per un periodo che va dal 2009 al 2012 è una cifra che si aggira intorno agli 80.000 euro Rinanciare l'unione dei comuni unica è quanto è stato riaffermato in un incontro che si è svolto ieri mattina al comune di Montesilvano tra il sindaco di Montesilvano Maragno il sindaco e il vice sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito e Degno Rosini e gli assessori al comune di Montesilvano Brocchi e Verrigni Tra le competenze attribuite all'unione da legge e statuto ci sono polizia locale, viabilità e traffico ambiente e gestione dei rifiuti difensore civico, legale e contenzioso E nel corso dell'incontro i sindaci di Montesilvano e Spoltore hanno anche sottoscritto, congiuntamente una lettera indirizzata al responsabile del servizio finanziario dell'Unione dei Comuni La missiva ha come oggetto l'autorizzazione alla proroga temporanea del servizio di tesoreria in favore dell'Unione dei Comuni Montesilvano-Spoltore per l'arco temporale strettamente necessario a indire una procedura di evidenza pubblica per affidare nuovamente questo servizio Sono stati avviati oggi gli interventi di manutenzione del verde sulla strada parco a Montesilvano I lavori verranno completati in 15 giorni Gli interventi prevedono la potatura di 1800 metri di siepe che divide la pista ciclabile dall'arresto della sede stradale di strada parco I lavori comprendono il tratto tra via Marinelli e il confine con Pescara L'intervento è stato suddiviso in due lotti Il primo prevede interventi di sfalcio dell'erba all'interno dei parchi dei giardini comunali degli impianti sportivi e delle scuole Il secondo lotto riguarda invece il verde estensivo nelle aree di viabilità nella rotatoria e nei parcheggi E siamo agli appuntamenti in programma in questi giorni Il Flaiano in piazza tornerà domani alle ore 21 al Parco Florida e proporrà la grande bellezza di Paolo Sorrentino il film vincitore del premio Oscar scrittore di un solo libro giovanile L'apparato umano Gep Gambardella giornalista di costume critico teatrale opinionista tuttologo compie 65 anni chiamando a sé in una festa barocca un campionario di amici conoscenti con cui ama trascorrere infinite serate sul bordo del suo terrazzo con vista sul Colosseo Trasferitosi a Roma in giovane età come un novello vitellone in cerca di fortuna Gep rifluisce presto nel girone dantesco d'Alto Borgo diventandone il cantore supremo il divo disincantato e sempre domani presso il monastero di Santa Maria del Monte Carmelo in via Monte Carmelo 85 nella zona di San Silvestro a Pescara ci sarà la festa di Santa Maria del Monte Carmelo il programma prevede alle 8.30 la celebrazione della Santa Messa poi alle ore 18 i Vespri e il Santo Rosario e alle ore 19 la Santa Messa solenne presieduta dalla Soccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti Arcivescovo di Pescara Penne potrà indossare lo scapolare e domani chi è preparato lo desidera e non l'ha mai ricevuto dal pomeriggio del 15 luglio fino alla sera di domani è possibile acquistare una sola volta l'indulgenza plenaria del Carmine con confessione comunione e preghiera secondo le intenzioni del Papa oltre a credo e pater il triduo di preparazione si conclude invece oggi alle ore 18 presso il monastero di Santa Maria del Monte Carmelo in via Monte Carmelo 85 a Pescara ci saranno i Vespri poi il Rosario e la Santa Messa tutto questo alle ore 18 di oggi mentre domani alle 19 la Santa Messa solenne presieduta la Soccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti Arcivescovo di Pescara Penne il Green Ribbon il nastro verde è il premio nazionale ideato e realizzato da Alter News Communications e Argalam il gruppo di specializzazione agroalimentare ed ambientale dei giornalisti di Lazio Abruzzo e Molise aderenti alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana per individuare nelle due sezioni di competenza giornalistica fotogiornalistica ed imprenditoriale i migliori servizi realizzati nell'ambito del tema proposto con il bollino di qualità e la collaborazione dell'Associazione Nazionale dei Consumatori Contribuenti Italiani Sezione Abruzzo il tema di quest'anno per i professionisti è focalizzato sulla città dal punto di vista giornalistico e fotogiornalistico urban journalist e urban photography e siamo alle previsioni del tempo stasera su Pescara e Provincia si prevede cielo poco nuvoloso con temperature da 21 gradi e mezzo a 26 gradi e 20 moderati domani si prevedono cielo poco nuvoloso dal mattino al primo pomeriggio e cielo sereno nel tardo pomeriggio ed in serata con temperature da 22 gradi e mezzo a 29 gradi e mezzo e 20 moderati il mare è previsto mosso stasera e da poco mosso a mosso domani era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio al microfono Natascia la parte tecnica è da tutti noi di Radio Speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne in onda sugli 87 6 MHz è su www.radiosperanzapescara.it ma presente anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza grazie per essere stati con noi e a risentirci abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Grazie a tutti